Svirti, Colombo, due su di lui, azione regolare dice l'arbitro. Svirti, Colombo, due su di lui, azione regolare dice l'arbitro. Pienamente meritato. Rivediamo ancora questa azione. Vedete il sinistro di Caluscia Paglia, solo sfiorato da Tacconi, la palla in gol. E ovviamente Caluscia Paglia, che sta per battere, viene in avanti anche Belu, temibile colpitore di testa, viene preso in consegna da Ferrara. E viene peppato Tacconi dal tiro che però probabilmente gli azzurri ritenevano fosse di seconda. Tutti gli azzurri stretti attorno all'arbitro che però non recede dalla sua decisione. Hackett convalida il gol 2-0 per lo Zambia. Ancora Caluscia Paglia al sesto del secondo tempo. Vedete Paglia che batte a rete assolutamente. Gli azzurri non intervengano a meno che tutti i tacconi. Bumba, Valia, Musonda, arriva a sostegno l'altro Valia. E segna! Johnson Valia 3-0 per lo Zambia. Incredibile, Johnson Valia. Tiro probabilmente deviato che scavalca Tacconi fuori dai pali. Rivediamo. Vedete, si tratta di Johnson Valia. Tacconi viene inesorabilmente scavalcato dal pallone. Va maturandosi un risultato che farà epoca. perché una formazione nazionale italiana insomma con una padronanza incredibile. La Germania ha battuto 4-1 la Tunisia. Intanto attenzione c'è ancora Valia, Valia. E segna il 4-0. Triplexa personale di Caluscia Valia. 4-0. Per un'incredibile patosta del calcio italiano all'opera del calcio dello Zambia. 4-0. Ha segnato tre gol Caluscia Valia e un altro gol Johnson Valia probabilmente con la complicità di una involontaria deviazione.